Padre Giacamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. È stato assassinato come se fosse un criminale. E noi, che lui dal cielo, perché dobbiamo pregarlo, eh? Noi dobbiamo pregarlo, che ci dia l'amitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico.